Lascerà il carcere tra pochi giorni il muratore albanese che lo scorso febbraio aveva tentato di uccidere prima l'ex moglie, poi l'albergatore che riteneva il suo nuovo compagno ha ottenuto i domiciliari. Dall'aeroporto di Rimini le prime novità sui voli per l'estate, il consolidamento dei collegamenti per Londra e alcune novità con l'auspicio di incrementare ancora il tabellone. La Fondazione Karim ha inaugurato oggi la Galleria Buona Drata, uno spazio espositivo con 75 opere che si affianca al patrimonio già in mostra ai musei comunali. Icaro TV è ancora più europea con notizie, interviste e approfondimenti che raccontano le possibilità legate a leggi e bandi comunitari. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TV ed Icaro Play. Lascerà il carcere tra pochi giorni il 54enne albanese, arrestato lo scorso 22 febbraio per aver cercato di uccidere prima l'ex moglie, poi il presunto nuovo compagno della donna, un albergatore riminese di 49 anni. Il Legip gli ha concesso i domiciliari. Pellumb Jaupi, muratore albanese di 54 anni, ha ottenuto il permesso di lasciare il carcere dei casetti, dove si trova dal febbraio scorso, per continuare la detenzione nel suo appartamento di Rimini. Così ha deciso il GIP del Tribunale riminese su istanza del suo difensore, l'avvocato Massimiliano Roux. Il trasferimento agli arresti domiciliari dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, non appena sarà disponibile il braccialetto elettronico, che Jaupi dovrà sempre indossare. Contrario alla decisione, il pubblico ministero Davide Ercolani, che nel maggio scorso ha chiesto il giudizio immediato per il 54enne albanese, accusato di tentato duplice omicidio. La mattina del 22 febbraio, Jaupi, folle di gelosia, si recò a Morciano e, nonostante il dibieto di avvicinamento inflittogli dal giudice alcuni mesi prima, colpì due volte al fianco a sinistro l'ex moglie con un coltello da cucina lungo 21 cm. Poi col suo furgone raggiunse l'hotel Butterfly di Rivazzurra e scagliò tre fendenti contro quello che lui riteneva essere il nuovo compagno della donna, l'albergatore Nicola Scarcia. Disarmato grazie all'intervento di alcuni dipendenti, tra i quali la sorella dell'albergatore, Jaupi fu arrestato dalla squadra mobile. Il suo legale, nel frattempo, ha chiesto il rito abbreviato. In attesa della fissazione dell'udienza, però, l'albanese potrà beneficiare di un regime detentivo meno duro. Una coppia di fidanzati è stata condannata con rito abbreviato dal giudice del Tribunale di Rimini per i reati di sfregio, tentata estorsione, minacce aggravate, truffa in concorso. Sei gli anni di reclusioni inflitti a una 25enne rumena, sei anni e otto mesi invece al suo compagno, un riminese di 34 anni. A essere sfregiato al viso con un taglierino fu l'ex fidanzato della giovane rumena, un 41enne riminese, aggredito sotto casa la sera del 5 agosto 2021 in via Acquario. Un mese dopo la squadra mobile arrestò la coppia. Nei 30 giorni di ricerche i due fidanzati avrebbero compiuto anche altri reati, tra cui una serie di truffe a sfondo sessuale ai danni di turisti. Parliamo di voli. Le compagnie aeree iniziano a definire i collegamenti in vista dell'estate 2023 e arrivano notizie incoraggianti per l'aeroporto Fellini di Rimini. Molte conferme e qualche ampliamento con l'auspicio dell'arrivo di nuove destinazioni. Per l'estate 2023 Ryanair ha deciso di aumentare i voli da Rimini verso Londra, che passano da 2 a 3 alla settimana. Scatteranno dal 27 marzo e saranno il lunedì, mercoledì e venerdì. Già acquistabili sul sito della compagnia irlandese anche i biglietti per Cagliari, Vienna, Varsavia e Kaunas, tutti con due collegamenti settimanali da marzo a ottobre. Per la località lituana si tratta di un raddoppio rispetto alla stagione appena conclusa. Ci sono poi anche Budapest e Palermo, al momento in precaricamento sulla app, con tre frequenze a settimana. Per il capoluogo siciliano un volo settimanale in più, mentre per la capitale ungherese un lieve ridimensionamento. Nell'estate 2022 Budapest aveva infatti cinque voli settimanali ed è stato il collegamento col maggiore numero di passeggeri per il Fellini. Manca l'appello ancora a Cracovia, ma l'inserimento dovrebbe arrivare presto. Con queste frequenze Ryanair potrebbe portare da sola circa 170.000 passeggeri. Si muove qualcosa anche sul fronte Wizz Air, che dopo l'esordio al Fellini di quest'anno, nel 2023 aumenterà da due a tre le frequenze settimanali estive per Tirana, che insieme a Bucharest è anche l'unico collegamento annuale operativo dell'aeroporto riminese. Da maggio a settembre è confermato anche il doppio volo settimanale di Luxair per il Lussemburgo. Fin qui le certezze. Airiminum continua però a lavorare a testa bassa sia con le compagnie già contrattualizzate per intercettare nuove rotte, sia cercando nuove low cost per ampliare l'offerta. La prossima estate potrebbe esserci ad esempio il ritorno della Germania. Dopo i 220.000 passeggeri con i quali lo scalo chiuderà il 2022, l'obiettivo 2023 è di superare i 400.000. Sarebbe il record da quando Airiminum ha iniziato a gestire lo scalo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio con un evento pubblico la Galleria Buonadrata, un nuovo spazio espositivo nella sede storica della Fondazione in corso d'Augusto. Questa mattina c'è stata l'anteprima per la stampa. 75 opere che tornano a mostrarsi al pubblico lungo sale e uffici di Palazzo Buonadrata. Dal 1992 a oggi la Fondazione Karim ha destinato ad arte e cultura il 29% delle risorse erogate sul territorio. Oggi le nuove acquisizioni sono difficili. La scelta della Fondazione è di destinare le risorse ad altre urgenze, ma è il momento di valorizzare meglio il patrimonio esistente. Anche se non aperta costantemente al pubblico, si tratta di una mostra permanente che completa un percorso tra museo e galleria, definito dal Presidente Ioli una collezione per due mostre. Nel Museo Civico Tonini, il Museo della Città, la gran parte delle nostre opere d'arte che sono confermate in deposito temporaneo con una convenzione sottoscritta con il Museo e con il Comune di Rimini che andremo probabilmente a riconfermare all'inizio del prossimo anno. Le altre opere che sono rimaste per troppo tempo depositate o esposte solo nei nostri uffici saranno di nuovo visitabili in occasioni che periodicamente stabiliremo nei prossimi mesi. Se naturalmente le acquisizioni sono ancora lontane dalla nostra prospettiva, almeno nel ritmo in cui noi abbiamo sempre cercato di arricchire il patrimonio culturale della città, invece siamo molto da tempo propensi a rendere sempre meglio visibile, comprensibile, conoscibile tutto quello che noi abbiamo, di valorizzare le epoche grandi ma anche le epoche minori della nostra storia dell'arte della pittura. Quindi partiamo ovviamente al Museo Tenini, Tonini col 300 e continuiamo col Rinascimento, il 600 e dal 500 al 900 qui in Palazzo Bonadrata. E sono tutti autori che hanno avuto a che fare con Rimini perché vi sono nati, perché hanno lavorato qui, hanno aperto le loro botteghe, perché le loro botteghe hanno avuto successo penso a Cagnacci come penso a Bilancioni, internazionale, non semplicemente locale e e altri invece che venendo dall'esterno hanno realizzato opere per Rimini. L'assemblea dei ragazzi chiede un'Emilia Romagna più green. Si è riunita oggi a Bologna dopo un anno di lavoro, l'assemblea composta da 50 ragazzi tra i 9 e i 18 anni provenienti da tutta la regione, organo consultivo dell'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Penso che per noi adulti le idee, i pensieri di queste giovani generazioni debbano diventare un elemento importante di riferimento. È importante l'assemblea dei ragazzi e delle ragazze perché è uno strumento, è una strategia con la quale garantire un diritto previsto nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'articolo 12 che afferma il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei giovani. Oggi faremo il punto sulla sostenibilità ambientale perché questo è stato uno dei temi che loro ritengono essere prioritario nel loro impegno. Sostenibilità ambientale che significa anche intreccio con le politiche di questa regione e crediamo che la partecipazione dei più giovani ai processi democratici di questo territorio possa essere un bene anche per la politica dei prossimi anni. Ci siamo divisi in tre gruppi, abbiamo dato tre portavoce che quest'oggi porteranno i documenti che abbiamo scritto e li presenteranno al Garante e sono molto contento del lavoro fatto. Finalmente ci siamo, si sono resi conto che quello che interessa a noi siamo noi per primi a doverlo decidere, interpretare e ci sentiamo onorati di essere qui. In questo anno abbiamo iniziato a fare le proposte per il da farsi e iniziare con dei progetti, aumentare i pannelli solari sugli edifici pubblici, poi più piedi bus e bisibus. Poi abbiamo anche proposto l'autostrada delle api che è appunto un progetto che è nato all'estero, non in Italia, però si sta diffondendo anche in Italia dove ci cerca di creare degli habitat per le api che purtroppo sono degli insetti che stanno scomparendo sul nostro pianeta che però sono davvero fondamentali. Da questa settimana Icaro TV è ancora più europea con notizie, interviste e approfondimenti che raccontano come le leggi e i bandi comunitari possono cambiare in meglio le vite dei cittadini. Uno sguardo attento che parte dal territorio e abbraccia tutta l'Europa. È Newsroom Europa, comunicare, informare, partecipare, dialogare. Il nuovo progetto del gruppo Icaro finanziato dall'Unione Europea che racconta come le leggi, i bandi e i progetti dell'Unione abbiano ricadute dirette e concrete sul nostro territorio, a partire da Rimini per tutta l'Emilia-Romagna. Ce ne parla Francesco Cavalli, amministratore gruppo Icaro. Noi abbiamo pensato questo progetto, l'abbiamo proposto alla comunità europea e ci è stato finanziato perché hanno colto l'importanza di parlare di quelle che sono le ricadute delle politiche europee in un territorio come quello Emiliano-Romagnolo. E l'altra scelta strategica che abbiamo proposto è quello di non farlo in un contenitore, in uno spazio apposito, i programmi dell'accesso, ma dentro quello che è il flusso ordinario della nostra informazione. Quindi nei nostri mezzi, in radio, in televisione, su Newsrimmini, dare spazio anche a quelle che sono quelle notizie, quelle informazioni che hanno un'origine, spesso magari alcune volte lo diamo e non lo sappiamo neanche, che hanno un'origine in quello che è la caduta della legislazione europea sul territorio, che passa anche attraverso delle opportunità. Quando qualche organizzazione, qualche associazione o qualche ente pubblico trova un finanziamento, oggi sappiamo benissimo il peso e il valore del PNRR che ha un finanziamento europeo, quindi spesso accadono delle cose, vediamo magari comparire un'aiuola nuova nel giardino e non sappiamo che quello è frutto di un finanziamento europeo o di un'applicazione di una legge europea. Noi abbiamo idea dell'Europa come di stanze nelle quali dei burocrati redigono delle norme che ci impediscono, ci complicano la vita e invece altre volte è che qualche cosa che ha prodotto invece un miglioramento nella mia condizione di vita è proprio frutto di una legislazione europea che è applicata a livello regionale ha prodotto un beneficio diretto alla comunità di quel territorio. Spiegare le cose, e questo è il senso, spiegare le cose alcune volte è la cosa migliore. Si terrà lunedì prossimo a Riccione l'ultimo dei tre incontri organizzati dalla Diocesi come percorso di formazione per i ministri accoliti, lettori, ministri straordinari dell'Eucarestia. Ospite del secondo appuntamento il monaco e liturgista Goffredo Boselli. Sono organizzati dall'ufficio liturgico diocesano i tre incontri di formazione rivolti ai ministri istituiti. Sono circa 900 in diocesi e a tutti coloro interessati ad approfondire il valore della liturgia. Tema del ciclo di quest'anno è Bibbia e liturgia e dopo un primo appuntamento con Don Franco Magnani già direttore dell'ufficio liturgico nazionale che ha messo in luce l'importanza di celebrare la parola l'unidì scorso è stata la volta del monaco e liturgista Goffredo Boselli per cui la Bibbia, il libro delle scritture, è tabernacolo esattamente come quello che custodisce l'Eucarestia. Boselli ha indicato tre elementi costitutivi della liturgia della parola. Gli elementi costitutivi sono tre. Primo la comunità, l'assemblea liturgica. C'è un'assemblea liturgica per la quale viene portato un libro delle sante scritture e c'è un lettore che legge il libro delle scritture. Ecco la dinamica tra comunità che ascolta il libro delle sante scritture canoniche e il lettore che proclama per la comunità, questa realizza la parola di Dio. Il contenuto del libro delle scritture diventa parola rivolta a un'assemblea. Per questo il Concilio Vaticano II ha detto quando nella liturgia si leggono le scritture è Dio che parla al suo popolo, è Cristo che annuncia ancora il suo Vangelo alla sua Chiesa. Il prossimo e ultimo sguardo sarà al femminile per approfondire un altro tema caro a chi vive la messa, l'omelia. L'incontro sarà lunedì alle 21 alla parrocchia Stella Maris di Riccione. Tocca forse l'aspetto che sta più a cuore ai fedeli o comunque quello che più li coinvolge almeno direttamente, cioè l'omelia. Per quest'ultimo appuntamento sarà la teologa Morena Baldacci invece a delucidarci. Siamo allo sport. Simon Anumba, ala di Riviera Banca Basket Rimini, è stato ospite ieri sera della nostra trasmissione Basket On Air. Anumba ha commentato la sconfitta di domenica scorsa al Paladoff di Bologna con la Fortitudo e ha parlato della sfida di domenica prossima alla Flaminio con la staff Mantova. Penso che negli ultimi 20 minuti è entrato un po' il fattore della stanchezza. Avevamo la nostra guardia americana, Johnson, che questa settimana è stato un po' on and off con gli allenamenti e Ubeidi ha avuto un po' di problemi. Quindi diciamo che la stanchezza è entrata un po' a fare sfavore nostro. Scusimi Simon, dopo qualche sconfitta posso subentrare anche un po' di pessimismo. Intanto domenica probabilmente avete una squadra alla vostra portata, ma lo state soffrendo un po' patendo questo momento in cui non riuscite a fare risultato? Ma guarda, dire che non lo stiamo soffrendo è un po', diciamo che è difficile. Ovviamente essendo 1-6 un po' di… cioè un po' sì lo stiamo soffrendo, però sappiamo che dobbiamo arrivare in palestra ogni settimana a testa bassa e lavorare per conquistare il risultato positivo. Ovviamente un mandato va, come dicevi, portata, ma c'è, dobbiamo comunque partire concentrati e essere forti fin dall'inizio, ecco. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione, newsremini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.